ciao ragazzi oggi Alissa non è andata a scuola e sta giocando un po' con la play con la realtà aumentata vi vogliamo far vedere questa cosa con i robottini guardate che simpatici ne è rimasto uno che lo vuoi aspirare? ah vuoi farne uscire altri? si e c'è un capo qua adesso un attino adesso non si vede poi si vedrà è perché hai scelto il nero facciamo ok è arrivato nella tv ma è proprio il gattino che hai creato tu Alissa che bello guarda mamma se così escono ma sono tutti racchiusi nel tuo controller ballano? si povero no voglio provare anch'io a fare un disegno posso? cosa posso disegnare? il gattino l'hai già disegnato tu allora io farò un coniglietto lo farò rosa gli occhietti e li facciamo azzurri aspetta che se no sembra triste un bel musetto ti piace? si che carino non vedo l'ora che spingi ok e poi lo lanci fuori vediamo come lo colora e ora fai così e adesso siamo pronti a lanciarlo intanto lì c'è anche una papera gigante via via wow che carino ma la puoi prendere in mano la papera? no se vuoi far saltare prova farò saltare prova a dargli un calcio ok ok oddio ne è spiaccicato uno Alissa aspetta che adesso ti mando una cosa allora gli voglio mandare questo guarda un pallone voglio fare anche io qualcosa io invece farò un cannolino tiro ciao ciao testolina le orecchine sembra quasi un coniglio e beh no anche i cani hanno le orecchie così bello tutto di nero ma si può anche colorare questo non lo sapevo ma pure lo sfondo no lo sfondo lo faccio di azzurro ok viene un cuscino praticamente sì eccolo ma cosa fai li mangi? non mangiare i robottini Alissa via via ma cosa fa Alissa guarda chi c'è in tv ma sta papera eccola uno due tre il cuscino più bello del mondo ok vi faccio un riposino dov'è il cuscino dov'è il cuscino vieni vieni cuscino voglio prendere a calci questa papera c'è il gatto c'è il gatto ma cos'è ma cos'è ma cos'è ma cos'è ma cos'è vorrà fare non lo so ho capito cos'è cos'è è un robottino di loro bravo perché vedi anche loro hanno gli occhi azzurri bravo bravo Daniel hai creato un robottino mi ho creato un altro e un altro e un altro e un altro e un altro guarda quanti adesso guardate cosa creo aspettate disegniamo wow quanto è bello ma l'hai spiaccicato e guardate cos'è quello va a Daniel oh grazie Daniel aspetta lo voglio prendere guarda voglio giocare con te i robottini dov'è ciao piccolo vieni qui vieni vieni sulla mia mano dai e dai vieni su oh e allora facciamo così adesso mi sparo vieni vieni qui guarda ce l'ho sulla gamba guarda quanti ciao piccolini quanti figli che hai figli robot venite qua oddio cosa è questo un suck boy si l'ho fatto io l'ho fatto io lo sto andando così all'infinito ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti qui va aan